Le origini degli scout risalgono a più di 100 anni fa. In Italia, tra i primi gruppi, c'è anche Albenga. Un grande movimento, quello degli scout, diffuso in tutto il mondo. Un'associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona. Le tappe del percorso scout sono tre. Il branco, composto da lupetti e lupette dai 7 agli 11 anni, che permette di apprendere i valori dello scoutismo attraverso il gioco e la comunità. Il reparto degli esploratori e delle guide, tra i 12 e i 16 anni, che vivono avventure davvero straordinarie a contatto con la natura. Il clan, il culmine del percorso scout, dove i componenti tra i 16 e i 20 anni, i rover e le scolte attuano i valori dello scoutismo attraverso la crescita del senso civico e del servizio al prossimo, per divenire buoni cittadini nella vita adulta. Visita il nostro sito per saperne di più. Grandi avventure ti attendono. Parola di Lupetto